Sit-in di protesta di 36 lavoratori della società eco-industria, l'azienda che svolgeva attività di manutenzione per il gruppo Ferrovie dello Stato. Licenziati il 7 gennaio ovviamente reclamano pari diritti in modo particolare. La vertenza dei treni notti infatti terminò nel 2014 con l'accordo di ricollocare tutti gli ex cucettisti nella società eco-industria ma oggi a differenza di 17 lavoratori già assunti direttamente dalle ferrovie per le persone che si trovano qui oggi si aprono le porte della mobilità. Per discutere della vertenza eco-industria che sono i lavoratori ex-Servirail i quali a differenza dei loro colleghi del resto d'Italia circa 800 sono beffati da Trenitalia e le stesse promesse loro fatte sono risultate infrante. Oggi siamo qua a testimoniare questa protesta, sarà una vertenza difficile ma siamo al certanto determinati ad andare avanti a chiamare Ferrovie alle sue responsabilità, a provocare anche nelle sedi istituzionali presso il Ministero delle Attività Produttive un tavolo perché anche per questi lavoratori ci sia giustizia e non vengono discriminati a differenza di tanti altri. L'accordo per questi lavoratori è già stato sottoscritto nel 2013, bisogna solo rispettarlo. Ferrovie dello Stato si è impegnata ad assumere tutte le maestranze che provenivano dall'avvertenza ex-Servirail il percorso è stato completato soltanto per 17 di questi e è logico che noi oggi rivendichiamo il rispetto degli accordi per tutti pretendiamo il rispetto di tutti gli accordi sottoscritti e per questo abbiamo la necessità di coinvolgere nuovamente il gruppo Ferrovie dello Stato e oggi è soltanto un passaggio, poi sicuramente la lotta continuerà.